Al via la terza dose di vaccino anti-covid-19 anche per gli over 60. Dalle ore 12 di domani, sabato 16 ottobre, le persone che rientrano nella fascia anagrafica degli ultra-sessantenni troveranno sul portale regionale prontovaccino.sanita.toscana.it un apposito pulsante per fissare l'appuntamento nei centri vaccinali della Toscana. Dopo le persone ultra-fragili, per le quali il 20 settembre sono partite le dosi addizionali, crescono anche le categorie di soggetti che possono accedere alla dose di rinforzo vaccinale. Nei giorni scorsi sono già partite le terze dosi per gli over 80, ospiti e personale delle RSA, operatori sanitari o di interesse sanitario e altamente fragili. Da domani è il turno di coloro di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Per le persone fragili chiama direttamente, finora sono stati i primi a cui noi siamo stati dietro, chiamano direttamente le strutture specialistiche il fragile. Se poi il fragile ritiene, perché voi capite che vi è, l'avete visto nella prima fase, una differenziazione dei profili di estremamente fragili, di fragili, se poi questa telefonata non arriva la persona sollecita il suo medico di base, la ASL e verifichiamo e gli viene somministrato. Non abbiamo più problemi di vaccini, i vaccini ci sono per tutti. Il grande hub vaccinale al Mandela Forum a Firenze resterà aperto fino al 15 novembre, poi i vaccini verranno somministrati in centri vaccinali più contenuti. Alcuni di questi hub trasferiranno la loro funzione in ambienti più contenuti già dal 30 di ottobre, altri come il Mandela Forum abbiamo deciso per sicurezza di tenerlo da qui al 15 novembre. Ma non è che chiuderanno gli hub, semplicemente addetteremo gli hub a quello che è la domanda. Grazie. 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 Grazie.